si è svolto il terzo incontro del corso di etica per un comportamento ecologico sociale intitolato eticamente a piccoli passi tutti insieme promosso dalla diocesi di lucera troia la reale arci confraternita della beata vergine addolorata di lucera in collaborazione con confraternite associazioni laicali durante l'appuntamento di venerdì 22 ottobre presso il centro della comunità giovanni paolo secondo di lucera dove si svolgono solitamente gli incontri intervenuto il dottor giovanni aquilino che ha parlato dell'etica della quotidianità l'iniziativa nasce dalla riflessione sulla necessità di chiarire di ordinare l'agire personale collettivo verso una finalità comune rispettosa della vita e del bene di tutti anche se siamo consapevoli dei tanti cattivi comportamenti personali e collettivi che ci avvelenano la giornata fino ai grandi conflitti alle tante guerre cosa facciamo praticamente per migliorare queste situazioni si fa dunque riferimento a comportamenti azioni pratiche cose agite insomma fatte con la mente il cuore e le mani si discute di etica per vedere se è possibile cambiare le cose agire diversamente meglio da subito immediatamente un po alla volta in maniera costante il prossimo e ultimo incontro si terrà il 29 ottobre alle 16 e sempre presso il centro di comunità giovanni paolo secondo e vedrà l'intervento dell'avvocato raffaele preziuso domenica 24 ottobre si sono registrati in puglia 127 nuovi casi di covid 19 su 18.601 test effettuati nessun decesso è stato registrato in provincia di Bari sono 39 i nuovi casi in in provincia di foggia 22 in provincia di bat 13 in provincia di lecce 35 in provincia di brindisi 12 in provincia di taranto 6 2317 sono le persone attualmente positive al covid 19 126 le persone ricoverate in area non critica e 17 persone si trovano in terapia intensiva la vis di foggia ringrazia coppaleanza 3.0 in particolare volevo ringraziare angela zuppa che è che ci ha seguito materialmente e volevo ringraziarli per questa donazione della cardiolina un elettrocardiogramma che ci permetterà di tenere sotto controllo ancora di più i nostri donatori dal punto di vista del benessere e quindi della prevenzione e per permettere al centro sfusionale di avere un dato in più sul donatore e siamo onorati di partecipare a questa a queste iniziative perché non è coppia non è solo esclusivamente un punto vendita commerciale ma fa anche queste attività sociale e questa è una delle tante che noi facciamo con piacere e con orgoglio di renderci utile alla cittadinanza e all'Avis innanzitutto perché fa un'attività molto nobile e utile per la salute dei cittadini ricordiamo sempre che la donazione è fondamentale per la vita delle persone in Italia ci sono 3 milioni di donazioni ogni anno e senza le quali molti di noi non sarebbero qui sì il 4 novembre abbiamo insieme sempre a copp alleanza 3.0 e soprattutto alla mongolfiera organizzato una donazione che è un'auto emoteca all'esterno del parcheggio della mongolfiera dove sarà possibile effettuare la donazione dalle 8 e mezza in poi fino a mezzogiorno è terminata con una vittoria la partita giocata dallo sport lucera in trasferta contro la rinascita rutiglianese 1 a 0 il risultato a favore dei bianco celesti ottenuto grazie al calcio di rigore trasformato da balletta 3 punti importanti che proiettano il lucera al secondo posto della classifica di promozione pugliese girone A a 15 punti a meno 4 dalla nuova spinazzola che prima in classifica 19 gli altri risultati di questa settima giornata sono Arboris Belli Football Club Capurso 1 a 2 Atletico Acquaviva Nuova Spinazzola 0 a 2 Vitritto Norba Football Acquaviva 2 a 0 Don Uva Calcio Fesca Bari 1 a 1 Foggia Incedit Polimnia Calcio 2 a 2 Sporting Apricena Virtus San Ferdinando 2 a 2 Grazie a tutti